Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Polithinia Umbrella Atriums Atriums Chicken Equally stilt Radius 45cm Find the area between the two concentrated ribs of the umbrella I want to find this area Here My theta will be 45 degrees My radius is fortified I have a Our 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 Grazie. 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 ... ... ... ... ... ... Grazie. 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 A is equal to theta by 360 into pi R. 60 by 360, 22 by 7 into 14, into 14. 20 by 3. 1, 2 start, 1, 6 start, 1, 3. 20. 14 into 22. 308 by 3. 10. Ok? Ok. Questo è 6. 1, 6. 6. Qu'è bisogno di fare? Ok. So, la sua parte? Ok. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.